Avrei potuto fare l'università sai, sarei potuto andare a insegnare e invece ho rinunciato a tutto, sì lo so scelta mia, certo una mia scelta, e poi che cazzo è successo, quando è che è cambiato tutto, perché qui alla fine nessuno ti avvisa, nessuno ti dice attenzione pericolo no, a un certo punto della tua vita via il sesso, via la passione, via il romanticismo tutto, e ci può anche stare guarda alla fine, ma noi avevamo comunque un progetto sai, perché non mi ricordo che cazzo di progetto era, che cosa dobbiamo fare ancora insieme? Aspettare di invecchiare? Sai che certe volte di notte lo guardo e mi sembra una persona che non conosco, però alla fine mi fa tanta tenerezza, lo sai no, quando fa le sue cazzate e ne fa tante, perché io alla fine un po' lo conosco, io so chi è, ma evidentemente non basta, no, mi sa che non basta, non invecchiaremo mai insieme.